La famiglia è una tipologia più amata della famiglia, quella dei mansardati. Il mansardato 686 ha linea classica con la mansarda molto alta e finestrino incastonato sul frontale. Ha sbalzo contenuto con grande portellone per il volume variabile sulla fiancata, con grafica molto moderna. All'interno letti a castello in coda con cucina pratica e funzionale al centro. Spazioso locale toilette con grande doccia separata. Punto di forza la dinetta AL estensibile con la chiusura del passaggio verso cabina. Raffinato il mobilio come nella tradizione della casa di Pomezia, con pensili tondeggianti di disegno aeronautico. Un mansardato questo M686 GLT che ha conseguito il prestigioso salone del Camper Award 2013 nella sua categoria. Per quali motivi è stato scelto Luca Mercatucci, responsabile commerciale Arca? Grazie, buongiorno a tutti. Innanzitutto siamo orgogliosi di farvi conoscere i motivi per cui l'obiettivo famiglia di questo M686 è stato inserito dentro 6 metri e 86. Quindi abbiamo cercato un veicolo compatto, ma un veicolo che non avesse assolutamente per la famiglia nessuna ristrettezza. Dal salotto, ai letti a castello e soprattutto all'isolamento termico-acustico. Isolamento che consente e che si inserisce nella filosofia green dell'azienda? La filosofia green dell'azienda è che vuole assolutamente cercare di andare a recuperare il più possibile da ogni singolo materiale che utilizziamo e soprattutto far risparmiare alla famiglia in viaggio e durante le soste le materie che utilizza per riscaldarsi, per cucinare, per tutto. Sostenibilità all'insegna dell'abitar viaggiando. Grazie Luca. Grazie.